Non bastavano il clima eccessivamente fresco e gli sbalzi di temperatura degli ultimi mesi. Il pomodoro dei campi della Capitanata deve fare i conti con un altro nemico ancora più insidioso, l'oro banche, un'erba parassita che cresce sotto le piante uccidendole. Nei prossimi giorni comincerà la raccolta dell'oro rosso in provincia di Foggia, ma intanto, spiega, confagricoltura e raccolto rischia di essere compromesso da questo nemico insidioso, che avrebbe infestato l'80% dei terreni. Anche i quantitativi sono previsti in diminuzione di circa il 30%. Questo per effetto dell'invito rivolto da Confagricoltura, che aveva sollecitato i produttori a ridurre i trapianti a causa dei prezzi troppo bassi offerti dalle industrie. Al nord l'accordo interprofessionale ha fissato il prezzo in 8 centesimi al chilo per il pomodoro tondo, l'unico coltivato nelle regioni settentrionali. Al sud invece c'è solo un'intesa tra i produttori e l'ANICAB, l'associazione degli industriali, che ha stabilito un prezzo di 9 centesimi per il tondo e 10 centesimi per il lungo. Livelli sempre troppo bassi per coprire i costi. La Capitanata resta la zona in cui si produce la maggiore quantità di pomodoro in Italia. L'anno scorso il dato nazionale fu di 50 milioni di tonnellate, di cui 22 milioni raccolti solo nei campi del Foggiano. Per contrastare la proliferazione del pericoloso parassita, non resta che far riposare i terreni riducendo i quantitativi. Il rimedio è sicuramente un rimedio agronomico, vale a dire quello di allungare un po' il ciclo dei trapianti, più che altro allungare la rotazione, far riposare i terreni, e anche perché questo si trasmette per spore, quindi non è facile da debellare.